...arrivano... ...un minuto, un minuto... ...non sono... ...35, Daniele! ...dai su, forza! Poi mi sono vestita per pensare quante euro fosse da Edo. ...dì, da qui mi sono messo... ...dì, da qui mi sono messo. Dai Rubino, dai! Forza Rubino, forza! Dai! Bravi, bravi! Dai Andrea, forza, dai! Dai! Forza, Remo! Forza! Andiamo all'altra curva, andiamo! 30 minuti, vada! 30 minuti! Bravi! Bravo, Roby, bravo! Grazie! 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 Sezione! Grazie! Cartellino! Hai visto tante persone, sembra ho visto tante persone… Allora! Bene! Grazie. 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 Ma for... Secondo. Non ci ha fatta. Eh, no. Cappellina alla mano. Ecco i babbo. Bravo! Ma se non te lo fa... Non te lo fa nessuno. Ti fai anche la tua moglie. Non lo fai io. Grazie. 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 Grazie.